buongiorno buongiorno e ben trovati cari amici a questo appuntamento con il dubbio di oggi domenica ventidove settembre eh duemila e ventiquattro Pietro buongiorno ben trovato buongiorno buongiorno a tutti buongiorno e benvenuti al dubbio speriamo vi piaccia anche questo di oggi se vi viaggia naturalmente premete il clic sulla campanella scrivetevi al canale e se volete lasciate qualche commento sempre piacevoli sono allora Pietro settembre è stato un mese abbastanza fresco non caldo come il mese di agosto possiamo dire anche se oggi eh usiamo partiamo da un tono caldo un tono da da brivido possiamo dire di una persona che ha molto ispira simpatia a qualcuno poco o meno ma una che non è una persona che difficilmente la manda dire per quanto riguarda il suo carattere lo introduciamo con un video eh di una sua di un suo intervento di qualche settimana cioè le regole della legalità internazionale valgono per tutti o no quando gli stati uniti fanno il blocco navale a cuba e dicono tu te ne devi andare l'argomento che stanno usando da due anni ogni paese deve essere autonomo e libero di fare le sue scelte beh è un bel principio ma noi per primi lo abbiamo violato quando abbiamo bombardato Belgrado e la Jugoslavia quando abbiamo occupato la seconda volta l'Iraq quando abbiamo occupato l'Afghanistan per vent'anni e poi ce ne siamo scappati lasciando le donne afghane in una condizione di schiavitù quando abbiamo fatto saltare Gheddafi che non era un democratico di West Western ma abbiamo fatto saltare un governo oggi non si riesce neanche a riunire il Parlamento libico è chiaro quando le Nazioni Unite dicono ad Israele due popoli due stati e non puoi occupare la Cisgiordania e per dieci anni fanno l'occupazione la Cisgiordania le regole internazionali valgono o no quando loro dice a Netanyahu devi bloccare il massacro di Gaza l'ha detto l'hanno detto le Nazioni Unite devi bloccare il massacro di Gaza quella risoluzione vale o no e dopo 40 mila morti a Gaza tu non puoi rispondere alla barbarie di Hamas perché è stato un atto di barbarie ma non puoi rispondere con 40 mila morti e impedendo ai bambini di fare la vaccinazione contro la poliomialite ci sono ministri nel governo di Netanyahu che vogliono una pulizia etnica è chiaro allora vediamo di capirci vediamo di capirci o la legalità internazionale vale sempre o non vale solo per i nostri amici e dobbiamo capire questo lo ha capito solo un uomo alla soglia dei 90 anni che va girando per il mondo con un vestito bianco ha capito che se vogliamo sopravvivere come umanità l'equilibrio post bellico è cambiato dobbiamo andare verso un mondo multipolare perché abbiamo i quattro quinti dell'umanità che non guardano all'occidente come a un faro di civiltà non più ma guardano l'occidente come quelli che hanno fatto l'occupazione coloniale la schiavitù hanno sfruttato delle materie prime noi per gli indiani per il sud del mondo per i cineti siamo questi allora pietro dopo aver visto io dico il mio caro governatore presidente della regione campagna eh vincenzo de luca con questo suo sfogo con questo suo parlare senza peli sulla lingua e tirare in ballo la vera verità forse in cui ha chiesto più volte perché 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 se la nato ha uno scopo perché abbiamo fatto questo in passato perché stiamo facendo questo attualmente e perché non si obbliga chi sta facendo un vero e proprio genocidio chi sta veramente eh andando contro le regole più umane trucidando decine e decine di migliaia di bambini innocenti pietro l'abbiamo ascoltato ne abbiamo discusso dacci a tu adesso partendo dal caro amico presidente luca la tua riflessione a parte la tua opinione che già conosciamo sull'argomento nato sull'argomento guerra sull'argomento va bene buongiorno ancora buona domenica questo è un argomento che a te proprio cala a pennello come se si penso veramente lo penso il governatore del luca può essere simpatico o non simpatico si può essere d'accordo o meno con lo suo operato questo è un fatto assolutamente di visione politica e strategica però è stato eletto dai cittadini con la preferenza per cui è comunque espressione del popolo sovrano campana sovrano si fa per dire tra virgolette ma quello che dice del luca in questo video che abbiamo appena visto è il sentimento della maggior parte degli italiani con sfumature diverse evidentemente con toni diverse ma trovare uno che è i vertici della politica a tanti anni da tanti anni che dice queste cose non è facile trovarlo in italia ha detto delle cose sensate fare la guerra alla russia quando abbiamo sempre saputo il piano di pace è stato fatto fatto nel stilato nel marzo del 2022 appena un mese dalla mese qua tre quattro settimane neanche un mese dall'inizio del conflitto è stato fatto fallire dalla dalla perfida albione si è andato avanti con un conflitto sapendo perfettamente ma lo sapevano tutti che è impossibile sconviggere la russia al di là dei dati attuali ci sono dietro dati storici però chiunque ha avuto la la sventura o la velleità o il sogno di sconviggere la russia si è svegliato con l'incubo di avere la russia che contrattaccava e ha veramente determinato le sorti delle guerre soprattutto quelle dell'ultima guerra mondiale della seconda guerra mondiale perché l'ultima ci siamo dentro si è vinto contro l'aberrazione dell'ideologia nazista grazie alla tenacia alla forza allo sfondamento che attraverso il corridoio di krusk le armate russe sono arrivate a penetrare l'europa fino a arrivare a quasi a confini italiani provvidenzialmente non intaccati grazie all'occupazione angloamericana che da allora oggi resiste e resiste forte purtroppo consolidata con l'accordo dei nostri governanti si fa per dire chiamiamo l'amministratore condutezzi che facciamo prima abbiamo sprecato risorse che potevano servire al benessere degli italiani sapendo perfettamente che non era possibile sconviggere la russia a guerra persa continuiamo a mandare armi e risorse non soltanto alla russia ma anche all'altro conflitto israeliano e queste armi e queste risorse e l'ammontare di queste risorse che bello l'unico paese che è belligerante perché siamo belligeranti a non informare il popolo né il parlamento è tutto secretato chiediamoci se c'è qualche qualche lobby delle armi in italia io me lo chiederei e se c'è qualcuno delle di queste lobby delle armi che è nei piani alti che del dei posti di comando perché anche questa sarebbe una una bella domanda oggi il 29 settembre se non fosse deceduto era il compleanno di di silvio berlusconi a lui è stato imputato di tutto la cosa più importante e anche da tutti richiamato era il conflitto di interesse è vero c'era un grande conflitto di interesse e gli altri ecco si è inaugurata la stagione dei conflitti di interesse però quello di berlusconi era palese lo dicevano tutti quelle degli altri si mormorano ma ma non si può dire vabbè ci sta anche questo ma io questa riflessione la farei perché vedete ce ne ha raccontato pure la barzelletta non fa ridere purtroppo perché ci sono i traggi che ci sono i morti che la russia aveva invaso l'ucraina bene bene insomma tutto quello che era successo nel 2014 2022 è stato eliso transiat nel mio prossimo saggio che spero nell'arco di qualche decida di giorni esca nelle librerie e anche sulla sul canale amazon e quant'altro dimostrerò cosa è successo realmente con i documenti in quest'arco di tempo dal 14 al 22 2014 2022 ma al di là di questa narrazione sia un po strabici perché la stessa cosa ha fatto lo stato di israele attenzione lo stato lasciamo per degli ebrei che non c'è sono vittime lo dico da sempre il popolo ebreo è vittima il loro governante evidentemente no l'azione esecrabile di hamas il 7 ottobre c'è stata quante persone sono state uccise? 200? 250? probabilmente ci sono stati le persone sequestrate va bene diciamo in tutto mille persone va bene ad oggi le stime ufficiali parlano di 40 mila morti ma dicono 90 mila e la maggior parte sono donne bambini e vecchie oltre a questo oltre a ciò è stata spianata un'intera triscia quello di casa non c'è più nulla strutture infrastrutture e quant'altro chissà quante decine d'anni ci vorranno per per ricostruirla e per renderla abitabile nel frattempo queste persone dovranno per forza di cose fuggire e trovarsi un qualcosa un rifugio sicuro quindi nuovi profughi perché abbiamo creato come quelle della Libia con quelle dell'Afghanistan con quelle di tutte le guerre nuovi immigrati per l'Europa nuovi immigrati per l'Europa diciamola così ma nelle ultime nell'ultima settimana dieci giorni c'è stato un attacco preventivo quindi un'invasione da parte dello stato di israele ripeto non c'entrano gli ebrei ai quali va la mia solidarietà e il mio abbraccio contro il territorio vicino il Libano contro gli esbolama d'altro canto uccidono i civili e lo fanno in via preventiva l'ONU non ne parla c'è stata una riunione dell'ONU in questi giorni dove sembrava di essere la festa di carnevale dove abbiamo fatto degli speciali e abbiamo raccontato già quello che è successo se volete riguardateli ma l'ONU non ha speso una parola di condanna verso queste azioni addirittura i nostri governanti si va per dire alla risoluzione di dichiarare il genocidio da parte israeliana si sono astenuti vedete non si possono fare commenti ma per ovvie ragioni commenti forti ognuno si faccia il commento che gli viene in mente ma le coscienze di quelli che hanno votato questa questa compagine governativa e quelli che stanno all'opposizione perché tanto nessuno si è degnato di alzare il dittino e dice no non si può fa nessuno lo ha fatto io che sono anziano ricordo quando ero ragazzo tutte le sere si vedevano le immagini in televisione la prima notizia della guerra in Vietnam abbiamo capito dopo che era un'invasione anche quella però lì ci stavano le sinistre che scendevano in piazza della sinistra a fianco dei lavoratori a fianco degli studenti della classe sociale più più basse perché volevano questo riscatto volevano avere la possibilità dell'ascensore sociale quella è la sinistra importante la sinistra che probabilmente ci sarebbe bisogno anzi no certamente ci sarebbe bisogno una sinistra riformista una sinistra socialdemocrata che parla al sociale che si occupi delle classi sociali meno ambienti alle quali sono state abbiurate tutte le garanzie sociali non abbiamo soldi per investire nella sanità vedete in questi giorni si sta preparando quello che è il documento economico finanziario che va mandato prima a Bruxelles per farlo approvare a Bruxelles poi lo portano in Parlamento che serve il Parlamento ancora non si sa poi ce lo diranno non ci sono soldi per chi non lo sa posto 100 l'entrata fiscale se ne spendono 75 80 perché 20 25 per cento viene che il famoso avanzo di amministrazione viene speso per pagare il debito pubblico che l'abbiamo ripagato circa due volte e mezzo tre volte ma queste cose non ve le dicono l'abbiamo già ripagato a voglia se l'abbiamo ripagato ma continua sempre a crescere a questo stato vergognoso uno stato che non ha a cuore i propri cittadini uno stato che non ha soldi per la sanità che non ha soldi per la scuola non ha soldi per lo stato sociale non ha soldi per le infrastrutture non soldi per il lavoro cosa fa sperperà denaro degli italiani in aiuti militari in macchine militari che servono soltanto per dare offesa per dare tragedie per dare lutti è la cosa più importante che io dico sempre e lo dico col cuore veramente affranto nel vedere questo panorama non internazionale quello che è vicino a noi questo che è prospicente questo mare nostro questa quella che è sempre stata la culla della civiltà mondiale ebbene noi pensiamo alla guerra non pensiamo a combattere la guerra con l'unica arma disponibile la pace la pace si costruisce come con la volontà di costruirla personalmente penso che ci vorrebbe un bella una bella spinta diplomatica abbiamo questo grande colpo diplomatico la farnesina ci vorrebbero anche i ministri a mio avviso adeguati quelle che ci abbiamo probabilmente anzi visto quelle che sono le risultanze di questi ultimi anni io penso che tutta la classe politica non soltanto di questo governo ma anche quelle che c'erano prima non hanno espresso personalità importanti negli castelli importanti anzi abbiamo espresso delle figure mitologiche che appunto in quanto tale le le vediamo così al di fuori della realtà io mi auguro che qualcuno rinzavisca e che combatta la guerra con l'unica arma possibile la pace grazie e buona domenica bene pietro dopo questa tua analisi di quello che è questo momento storico e politico che a livello globale mondiale europeo partendo dalle parole forti e pungente di vincenzo de lucca del presidente governatore della campagna di vincenzo de lucca speriamo che questo messaggio verso la pace diventi il brivido che che faccia sbuovere gli animi dei nostri governanti anche se tu li definisci amministratori contoterti no? Gli animi le coscienze le coscienze l'animo per me era riferito come coscienza anche loro hanno figli è vero che i loro figli in guerra non ci andranno mai ma quando ci sono le guerre le schegge vanno dappertutto spero di no mi auguro di ritornare a vivere in pace vediamo che questo tuo grido contro la guerra e verso la pace si diventa un grido più vasto più comune a tutti coloro che ci ascoltano e che si diventa un tam tam e che raggiunga chi deve essere raggiunto e che scuota e smuova come hai detto tu le loro coscienze su queste parole su queste parole diamo ai nostri cari amici radioascoltatori e telespettatori una buona domenica ultima domenica di settembre e staremo a vedere ottobre cosa ci porterà aspettando il 24 ottobre una buona domenica alla prossima la voce del meridione una voce libera informazione libera che da voce al territorio e alla gente seguici e iscriviti al nostro canale youtube resta sempre informato grazie a tutti